Ciao a tutti, eccoci a un nuovo video su Excel, video in cui vorrei parlarvi delle immagini, delle immagini contenute appunto nel nostro prospetto Excel. È una richiesta che mi è arrivata tanto al canale, da alcuni di voi, quindi ho deciso di dedicare appunto un video espressamente su dei casi magari molto semplici in cui si trattano delle immagini. In particolare qua è un prospetto che riguarda appunto delle immagini con dei loghi, delle squadre di calcio, ma diciamo che analogamente a questo si potrebbe applicare un prospetto per, che so, una situazione di alunni, che so, con l'immagine dell'alunno, con le sue caratteristiche, per fare dei piccoli badge, o dei dipendenti di un'azienda, oppure dei prodotti in magazzino, insomma, con il scenario di macchine, in tutti i casi in cui magari per arricchire la nostra tabella abbiamo bisogno di un'immagine che possa essere richiamata quando ci serve. In questo prospetto in particolare ho preso delle squadre di calcio con alcune informazioni che poi potremmo anche estendere o altro, e quindi che succede qua? Quando vado a selezionare da un menu a tendina, ad esempio la squadra, che so, la Lazio, compare qua il logo della Lazio, che viene preso direttamente da questa tabella, con tutte le informazioni che riguardano la squadra di calcio. Quindi se vado a prendere, che so, l'Empoli, piuttosto che il Genoa, vedete che compare il logo dell'Empoli con tutte le informazioni che ha. Concluderemo poi il video con qualcosa di un po' più complicato, ad esempio un prospetto per quanto riguarda, sempre legato all'ambito del calcio, per quanto riguarda, che so, il tabellone degli incontri, dove abbiamo una semifinale e una finale, con la semifinale io vado a selezionare qua le squadre che giocano, a parte che c'è già il risultato, ma posso mettere, che so, Fiorentina, Genoa, e sotto invece l'altra semifinale è Cesena, che so, Frosinone, ok? E che succede? 3 a 0, 1 a 0, la finale in questo caso sarà tra Fiorentina e Cesena. Ok? E quindi questo tabellone poi si può andare ad arricchire, ecco qua Cesena, si può andare ad arricchire, andando appunto a stamparlo, avere una personalizzazione, eccetera, eccetera. Direi che ci mettiamo subito al lavoro, andando a creare un nuovo documento, Ctrl N, questo è un documento vuoto, dove come prima cosa andiamo a importare magari delle immagini. Le immagini ce le possiamo prendere direttamente dal browser, dove andiamo a scrivere ad esempio, loghi, squadre, calcio, italiane. Possiamo fare, andiamo direttamente su Wikipedia, e vediamo cosa trova. Ecco qua è la ricerca che ho fatto già precedentemente, vedete qua ci sono i loghi delle squadre, quindi supponiamo di, boh, renderli un po' a caso, ok? Supponiamo di prendere l'ascoli calcio, quindi cosa faccio? Anzi, questo mi piace di più. Facciamo tasto destro, facciamo salva immagine con nome, e magari direttamente sul desktop ci andiamo a costruire una nuova cartella, e questa cartella la chiamiamo immagini Excel, ok? Qua dovremmo stare attenti alla dimensione delle immagini, ma io adesso non voglio, insomma, dilungarmi troppo per il formato o altro, supponiamo che per noi vadano bene qualunque cosa troviamo, quindi salva immagine con nome, questa mettiamo logo Atalanta, quindi prendiamo il Bari, cosa c'è il Bari? Questo, ok, salva immagine con nome, sto prendendo ovviamente del tutto a caso, ok, il Cagliari ovviamente non posso non metterlo, quindi tasto destro, salva immagine con nome, e quindi qua ci mettiamo il Cagliari, cosa c'è qua, Casarano, Catanzaro, Catanzaro, vediamo qualcuno anche carino, ecco, prendiamo il Cosenza, vi piace Cosenza, salva immagine con nome, hanno anche formati diversi, e quindi probabilmente farò un po' di macello con l'importazione, ma lo vediamo, quindi salva immagine con nome, noi vi potete averne una decina all'incirca, prendiamo la viola, tasto destro, salva immagine con nome, poi chi abbiamo, Forigno, Frosinone, ecco Frosinone, possiamo mettere, salva immagine con nome, e direi che forse ci siamo, per il sicuro mettiamo, che sono anche il Genoa, questo scudo mi piace, e magari possiamo mettere Verona, salva immagine con nome, bene, chiudiamo pure questo, torniamo al nostro Excel, e iniziamo a capire come possiamo organizzare la struttura dei nostri dati, sicuramente ci serve una tabella, ci serve una tabella dove, creiamo magari uno spazio adeguato per contenderli loghi, se no sono troppo piccoli, magari non riesco a visualizzare bene il contatto, contenuto, questa è troppo larga, allora supponiamo che nella colonna A, io vado a inserire praticamente tutte le immagini, per inserire le immagini andiamo qua su inserisci, immagini, e vedete qua ho due opzioni, magari le vediamo tutti e due, andiamo a vedere la prima, che nella mia versione di Excel mi dà un errore, vedremo poi cosa succede invece nelle vostre versioni, quindi inserisci in cella, cosa vuol dire? vuol dire che lui all'interno di una cella va a mettere un'immagine, la sta in qualche modo associando praticamente, alla mia cella, sembra perfetto se funzionasse, comunque carichiamo le immagini da dove? da questo dispositivo, andiamo a prendere, le ho salvate dove? nel mio desktop, queste sono immagini usate di prova, quindi si chiamano immagini, scusate, immagini Excel, eccolo qua, e queste sono tutte le immagini che io ho scaricato, vado a prenderle e selezionarle tutte, andiamo su inserisci, e vedete che lui mi sta inserendo all'interno delle mie celle, tutte le mie immagini, che posso tranquillamente, magari andare a centrare, orizzontalmente, verticalmente e quant'altro, queste immagini ovviamente, poi lo facciamo bene, ma adesso vi faccio vedere che dà un errore, saranno associate a una squadra, quindi supponiamo di scrivere squadra 1, e via, tiriamo giù tutto, ok? questo lo stesso, può essere centrato, dimensionato, fate quello che un po' vi piace, e niente, ci vogliamo di mettere un bel menu a tendina, dove io, unendo queste due celle, vado a scrivere, dati, con valida dati, valida dati, elenco, vado a scegliere, l'elenco delle mie squadre, quindi la mia origine, sarà, da squadra 1 a squadra 10, chiamo invio, e qua mi compare il mio elenco, sembrerebbe fantastica questa cosa qua, nel senso che io adesso, scegliendo la squadra, andrò a prendere il logo della squadra, adesso associata, ok? per far questo, cosa posso fare? beh, intanto posso, selezionando questi due, andare a creare delle etichette, sulla mia cella, cioè voglio fare in modo, che la cella a 2, non si chiami a 2, ma si chiami squadra 1, ok? per far questo, seleziono questi due, poi lo rivedremo, questo passaggio, dalle parti invece funzionante, andiamo sulla parte delle formule, andiamo a creare, delle etichette da selezione, ok? che prenderanno i nomi, della cella che compare, nella colonna a destra, cioè vuol dire che questo diventerà, Ascoli Calcio, questa che la a 2, diventerà squadra 1, Frosinone Calcio diventerà squadra 2, e così via, diamo un bel ok, ha creato questa selezione qua, perfetto, adesso posso semplicemente usare qua, la formula in diretto, ve la spiego magari un attimo dopo, che prenderà squadra 5, vedete che, ovviamente qua, posso unire le celle, uniamo le celle, ok? la squadra 5, il cosenza a calcio, giusto? andiamo a cambiare qua, e posso dire, squadra 1, squadra 1, e l'Ascoli Calcio, ok? squadra 3, sarà il Bari, ok? e così via, quindi sembra che sia facilissimo, diciamo farlo in questo modo, c'è un solo problema, che quando io vado a salvare questo file, lo vado a riaprire, ha un inconveniente, lo proviamo insieme, salva con nome, lo vado a salvare, sempre nel desktop, e nella cartella Immagini Excel, mi va benissimo, questo sarà Video Immagini, ok? lo salvo, lo chiudo, torno sul desktop, andiamo a cercare Immagini Excel, e riapriamo Video Immagini, con nostra sorpresa, purtroppo, vediamo che, dove io avevo caricato le immagini, compare questo Anc No, cioè sconosciuto, così come, da squadra 3, che prima funzionava, eccetera, veramente la squadra 1 funzionava, ma adesso continua ad essere sconosciuto, è facile rifarlo, certo, io dovrei riandare qua, andare nuovamente su Inserisci, Inserisci Immagini, Inserisci in cella, e mi devo andare a prendere tutto il mio pacchetto, e adesso vedete che rifunziona tutto, quindi c'è questo piccolo bug, penso, di Excel, io non ho trovato una soluzione, che mi fa perdere praticamente l'inserimento della mia immagine all'interno della cella, quindi questo modo di procedere per noi non andrà bene, dovremmo rivolgerci a un altro modo di lavorare. Per far questo, allora, intanto selezioniamo tutte le nostre immagini, sono 10, andiamo, ci si apre subito, nella mia versione di Excel almeno, ci si apre subito un menu contestuale, posiziona su Celle, è la stessa cosa che voi ottenete quando andate da Inserisci, Immagini, e Posiziona su Celle, ok? Facendo nuovamente l'importazione, qua ho una scorciatura, anzi, possiamo anche farlo, facciamola assieme, quindi cancello tutto, cancello anche questo, che ovviamente non mi serve, vado e faccio Inserisci Immagini, questa volta non in Celle, ma su Celle, cioè non la ingloba all'interno della Cella, le vado a chiappare come prima tutte, facciamo Inserisci, ecco quello che succede, l'inconveniente è che hanno una dimensione diversa, come vi dicevo, e vengono praticamente messe tutte in ordine sparso. Allora, cosa faccio? Io adesso, magari metto il video anche veloce, porto ognuna di queste, ridimensionandola, in modo tale che possa star ben dentro una Celle, perché poi questa Cella andrò a richiamare, e poi vedremo anche come orientarla e quant'altro. Mando un attimo il video veloce in avanti, mentre procedo con il nostro dimensionamento. Bene, direi che a questo punto sono tutti posizionati, giusto una scorciatoia, se io seleziono il primo, e poi col tasto CTRL più A della tastiera, vedete vengono selezionati tutti, e questo mi permette magari qua, del gruppo di comandi formato immagine, di utilizzare degli allineamenti, per metterli magari, che so, centrati orizzontalmente, no, scusate, CTRL Z, dicevo, centrati verticalmente, ok, vanno tale che rispetto alla verticale, siano tutti appunto al centro, se hanno poi la stessa dimensione, potete utilizzare magari delle funzioni, per distribuisce orizzontalmente il test, e quindi ve li distribuisce, appunto in maniera corretta, per evitare alti e bassi. Ok, continuiamo il nostro video, andiamo a scrivere qua, ad esempio, il nome della squadra, quindi Atalanta, Perfetto, ok, come procediamo nel nostro prospetto? Quindi, sicuramente devo andare a creare, col menu a tendina, un collegamento, intanto con le squadre di calcio, non con quello che c'era prima, di conseguenza, ritorniamo su dati, con valido dati, e dico, guarda che il mio elenco è cambiato come origine, anzi, diciamo che è rimasto lo stesso, perché sono stati tutti i valori, quindi diamo conferma, e a quattro avremo le squadre di calcio, Atalanta, Verona, e quant'altro. Quello che succede qua dentro, invece, poco ci interessa. Andiamo a costruirci il nostro prospetto, andando ad esempio a, riportiamoci nella situazione iniziale, quindi questo non c'è, ok, vado a creare il mio prospetto, selezionando una zona, magari la evidenziamo con un colore di sfondo, che è un colore grigio, ok, questo mi può andar bene, dove io sceglierò praticamente la squadra, lo sposto magari al centro, questo, sceglierò la squadra, e allora gli posso dare un carattere un po' più ampio, ok, Atalanta, e così via le altre. Ok, cosa deve succedere nel mio prospetto? Quando io scelgo il nome della squadra, allora devo in qualche modo andare a prendere il logo che c'è qua a fianco, quindi in questo caso Crotone dovrà darci il logo del Crotone. Iniziamo a vedere se le, ecco, quello che non va bene rispetto al tentativo di prima, vedete che la cella A2 ha mantenuto squadra 1 quello di prima, invece io voglio che la cella A2 abbia Atalanta, quindi che faccio? Seleziono entrambe queste situazioni qua, e dalla parte formule andiamo a vedere come creare da selezione, non riga superiore ma sicuramente colonna a destra, in modo tale che il nome di B2 venga data alla cella A2, ok? Cioè il contenuto di B2 venga data come nome di A2, quindi diamo OK, andiamo a vedere in questo caso la gestione dei nomi, diciamo che quelli buoni sono questi, tutti quelli che seguono qua sono quelli che avevo prima, quindi io direi possiamo anche, vediamo se fa fare una selezione multipla, squadra 9, cancello e butto giù tutto, ok, perfetto, mi rimangono queste questi nomi, andiamo a vedere se funzionano, vedete che adesso la cella A2, non si chiama più A2 ma si chiama Atalanta, questa si chiama Verona e così via, Chiorentina, Genoa eccetera eccetera, bene, ancora un passo, cosa devo fare? Devo fare in modo adesso a questo punto che, quando io vado a selezionare la mia squadra di calcio, il contenuto della cella, in questo caso della cella L2, venga usato come riferimento, cioè come collegamento, per andare su questa cella qua, ok, questo è un passaggio molto importante, e si fa sempre dalla gestione dei nomi, supponiamo di avere una nuova etichetta, che chiamo Logo, e dico, la funzione Logo, cosa deve fare? deve andare a prendere, attraverso la funzione Indiretto, il contenuto della cella Crottone, e usare non la parola Crottone, ma il collegamento Crottone, perché Crottone mi porterà, da questa parte a sinistra, sulla mia cella, che si chiama Foto Crottone. Ok, è più complicato a spiegarlo, che puoi vederlo realizzato, diamo invio, in questo caso, vedete, mi ha creato Logo, associato al mio menu a tendina, sin qua non è cambiato niente, anche perché la funzione Logo, usiamola qua in basso, se vado a scrivere Logo, vedete che mi compare tra le funzioni, però purtroppo non ha nessun effetto, cioè se io scrivo qua Logo, vedete, mi restituisce il zero. Logo ha effetto quando, quando io prendo, ad esempio, un'immagine, qualunque, Ctrl-C, ho preso questo dell'Atalanta, ma cambia abbastanza poco, e la vado a incollare, Ctrl-V, qua all'interno. Posso pensare, ad esempio, di ridimensionarla, ok, e la mettiamo in una posizione che ci aggrada particolarmente, ok, cosa deve succedere a questo punto? Beh, che questa immagine, in realtà, non sia legata ad Atalanta, ma sia legata a quello che c'è scritto qua sopra, e il collegamento avviene attraverso, che cosa? Logo. Bene, allora la mia immagine si chiamerà uguale Logo. Diamo invio, e vediamo subito che succede. Succede che, di immagini è abbastanza bruttile, che, se io vado a selezionare, che so, Atalanta, lui mi tira fuori il logo dell'Atalanta. Ovviamente questa roba è piccolissima, possiamo fare, scusate un altro, un bel ritaglia, ok, ok, ritagliamo un attimo la foto per togliere questi bordi che sinceramente non ci servono, così ampi, ok, ancora un po', e a questo punto togliamo il ritaglia e andiamo a ingrandire un po' la mia foto. Ok, quindi, ho detto, scelgo Atalanta, bene, ci compare il logo dell'Atalanta, mettiamo Cosenza, compare il logo del Cosenza, mettiamo Cagliari, mi compare il logo del Cagliari. Ecco, in questo caso è stato tagliato, vi riceverà quel discorso delle immagini, ok, delle immagini di dimensioni, di dimensioni differenti. Quindi, in questo caso, dovrei riandare su formato immagine e vedere come è stata ritagliata e dargli magari uno spazietto un po' più grande. Ok, bene, abbiamo visto che il nostro menu a tendina sta iniziando a funzionare, quindi vi permette di scegliere, ad esempio, la squadra, il nome, col nome della squadra, io vedo caricato qua il logo. Allora, andiamo a concludere il nostro prospetto, andando magari a disegnarci qua una zona in cui io vado, mettiamo un bordo prima per capirci. Allora, tasto destro, formato celle, prendiamo un bordo di spessore grosso, di colore bianco, e lo andiamo a mettere sia all'esterno sia all'interno della mia tabella. Ok, a questo punto, che so, magari uniamole a due a due, che è più carino, qua mettiamo il nome e qua andiamo a mettere invece il risultato. quindi questa roba, ctrl c, la posso copiare qua, ctrl v, e ctrl v. Ok, ho questo piccolo prospetto in cui io metterò, ad esempio, la città, ok, poi metterò, che so, colori sociali, e qua non l'ho messo, posso mettere, ad esempio, il numero di scudenti, il numero di scudetti, lo posso aggiungere qua, non me ne voglia nessuno, in maniera casuale, quindi uguale, casuale punto tra, uno, facciamo tra 1 e 5, ok, e ctrl c, ctrl shift v, vado a incollarmi, lo speciale. Allora, la città, la città, la cosa viene fuori? Beh, semplicemente, è una funzione indice, indice, confronta, indice, cosa mi dirà? Beh, sto cercando la città, quindi mi tirerà fuori qualcosa da questo elenco, ok, punte virgola, quale riga vuoi di questo elenco? Usiamo la funzione confronta, che prenderà il valore che ho selezionato qua, nel menu a tendina, lo cercherà, nella matrice dove ci sono i nomi, con una corrispondenza esatta, chiudiamo due volte la panettistonda, andiamo contro il vio, e vedete che ci restituisce la città di Bari, se vado a selezionare, se vado a selezionare, che so, Atalanta, dovrei trovare la città di Bergamo, col suo logo, perfetto, questa formula sta funzionando, me la vado a copiare, ctrl c, vado su colori sociali, uguale, ctrl v, e cosa succede? che invece di restituirmi la città, mi deve restituire i colori sociali, quindi trascino qua a fianco, e diamo un bel contro l'invio, per quanto riguarda gli scudetti, stessa cosa, ctrl v, invece di restituirci la città, ci restituirà il numero associato agli scudetti, andiamo a questo punto, a dimensionare decentemente, dare magari uno sfondo, un po' più chiaro, per questa parte di prospetto, magari qua li posso allineare un attimo a sinistra, ok, no, tra migliori, ok, e così via, quindi questo prospetto, abbiamo detto funziona, sto usando le immagini, le immagini ci portano appunto logo diverso, ma anche altre informazioni, che potrebbero crescere, raggiungendo semplicemente il numero di colonne, qua del mio prospetto, per chiudere questo video, cercherò di farvi vedere invece, andiamo sul foglio 2, come realizzare, un quadro, un tabellone, magari riassuntivo degli incontri, lo faccio per pochi incontri, poi si può ovviamente estendere, dove supponiamo che io voglia, andiamo adesso di zoom, ok, dove io voglia, ad esempio qua, indicare, come ho visto nel prospetto, che vi ho fatto vedere all'inizio video, le semifinali, semifinali, ok, e questo lo mettiamo, con un carattere bianco, e magari, cresciamo un attimo, ok, quindi qua mettiamo, ad esempio, la prima squadra, quindi, qua possiamo mettere, ad esempio, il logo, qua mettiamo la squadra, quindi qua mi comparirà un minu a tendina, perfetto, andiamo a prendercelo da dati, con vari da dati, elenco, l'elenco lo prenderò dal foglio principale, quindi, origine, andiamo sul foglio 1, e mi va a prendere, ad esempio, l'elenco di tutte le squadre, diamo invio, e qua compare l'elenco di tutte le squadre, ok, bene, ho scelto Cosenza, qua a fianco, voglio che mi compaia il logo del Cosenza, quindi, come facciamo? Allora, facciamo questa scorciatoia, qua ci scriviamo, ad esempio, il numero 1, ok, che poi faremo sparire, poco ci interessa, per capire che questa sarà la prima scelta, cioè, mi permetterà, ad esempio, nelle formule, di gestire i nomi, mettere un nuovo collegamento, che chiamerò 1, mettiamo tutto minuscolo, che sarà riferito a che cosa? Al mio, in diretto, di quello che scelgo, con questo menu a tendino, e questo adesso, cosa farò? Lo andrò ad associare al mio logo, quindi, sponiamo di prenderci, ad esempio, il logo, il primo, quello che volete, ctrl C, lo andiamo a inserire qua, ctrl V, lo dimensioniamo opportunamente, in modo tale che stia nella cella, ok, e a questo punto dirò, guarda che questa immagine, che si chiama immagine 1, in realtà sarà legata a 1, cioè il mio collegamento, attraverso la funzione indiretto, ok, lui ha fatto quello che vuole, come sempre, quindi, andiamo un attimo, a dimensionare questa parte, ok, questa immagine, se la prende da cosenza, quindi, se qua nel mio menu a tendina, vado a scrivere, che so, Fiorentina, mi compare il logo, della Fiorentina, Verona, poi dovete lavorare un po' con le immagini, per togliere questi bordi, o altro, ma non voglio allungarmi troppo, col video, detto questo, il menu a tendina sta funzionando, qua posso cambiare magari, proprio questo non devo farlo, posso cambiare per questi due, il colore dello sfondo, metterlo un attimo, un po' più chiaro, ok, mentre questo 1, lo posso tranquillamente far scomparire, io direi, lasciamolo per comodità, però, bene, andiamo avanti, quindi questa sarà la prima semifinalista, CTRL C, CTRL V, o la seconda, quindi dimensioniamo opportunamente, ok, quindi in questo caso, invece il numero 1, abbiamo il numero 2, qua abbiamo sempre il menu a tendina, che ci siamo trascinati, ma voglio che questa immagine, sia associata a 2, ma 2, io non l'ho ancora creato, quindi se vado a cercare 2, ovviamente non lo trovo, quindi, andiamo nuovamente sulla parte formule, andiamo a mettere nel gestore dei nomi, un nuovo, una nuova etichetta, che si chiama 2, che andrà a prendere come, collegamento in diretto, del menu a tendina, che ho qua sotto di Verona, chiusa a tonda, CTRL invio, adesso associerò a Verona, il secondo, il numero 2, e il mio elenco dovrebbe essere a posto, quindi se io ho una partita, però un'Atalanta, ok, qua ha fatto, posso avere anche un punteggio, quindi riduciamo un attimo questo, mettiamo un colore, ancora più chiaro, e possiamo qua mettere, per tutte queste celle, comunque un bordo, di colore, carattere bianco, si, la scritta mi va bene, ma sto dicendo, volevo un colore, facciamolo da qua, formato celle, di sfondo spesso, colore carattere bianco, e facciamo sia interno che esterno, ok, o scegliete voi quello che volete, insomma, questo è quello che sta succedendo, ad esempio, questo colore non mi piace, mettiamolo un attimino, ancora più scuro, ok, dove ci va il risultato, ancora una volta, posso copiare tutto, CTRL C, e andiamo a vedere, le altre due semifinaliste, CTRL V, CTRL Z, cosa ho scelto? Questa che ci siano due spazietti qua, CTRL V, perfetto, stavo dicendo le immagini, ovviamente lui me le ha deformate, quindi in questo caso lo sapete che faccio, le carcello e le rimetto, ok, quindi andiamo a prenderci un'immagine, questa, CTRL C, che è già dimensionata, CTRL V, ok, questa sarà associata al 3, quindi 1, 2, questo sarà il numero 3, mi scrivo il numero, il numero 4, ok, mettiamo subito da formule, gestione i nomi, nuovo, 3, che sarà l'indiretto, indiretto di questo meno a tendina, ok, e il nuovo, che sarà ad esempio 4, lo facciamo associato a, uguale, indiretto, aperta tonda, di quello che sceglierò da questo meno a tendina, chiusa tonda, anche qua, un bel invio, e chiudiamo tutto, cosa faccio, questo sarà legato a, non a 1, ma abbiamo detto, a 3, e bel invio, e poi, CTRL C, CTRL V, con la stessa dimensione, direi che questo, sarà associato, non a 3, ma a 4, ma a 4, ok, andiamo a modificare, adesso, Verona, supponiamo la partita sia, Fiorentina, Frosinone, ok, con il suo risultato, stessa, la stessa cosa farò, quando, quando invece della semifinale, voglio ad esempio qua, una finale, copio ancora, queste due celle, se mi interessa, copio questa, e CTRL C, la vado a incollare, qua ad esempio, CTRL V, no, non mi piace, incolliamo qua in H, CTRL V, ok, cancello come sempre le immagini, questa cosa mi rompe, questo saranno il valore, quindi siamo arrivati a 4, quindi questo sarà il 5, questo 6, quindi qua, devo riprendere le immagini, supponiamo di prendere, CTRL C, Fiorentina, la metto qua, CTRL V, lo posiziono, magari al centro, e poi, rimpicciolisco un attimo, questa colonna, intanto qua, ci andrà solo il logo, ok, perfetto, e il logo va bene qua, CTRL C, CTRL V ancora, e qua lo metto fra in basso, andiamo a creare i collegamenti, come abbiamo visto prima, quindi sulla gestione di nomi, abbiamo detto, qua avremo, nuovo 5, che sarà associato a, indiretto, aperta tonda, del menu a tendina, che c'è qua su, chiusa tonda, e poi avremo, nuovo 6, che sarà associato, al mio, indiretto, e il secondo menu a tendina, che è questo, adesso devo semplicemente associarlo all'immagine, sta diventando una cosa abbastanza meccanica, vi ripeto, da fare, quindi, il primo fiorentina sarà associato, non a 3, ma a 5, e, il secondo, non sarà associato a 3, ma sarà associato a 6, in questo caso, vedete che, supponiamo che qua sia passata, fiorentina-Atalanta, ovviamente non c'era, qua ci sarà, ad esempio, il Verona, dove il Verona, eccoti qua, e qua è passata, fiorentina-Atalanta, facciamo passare la fiorentina, perché, no, anche perché qua, Atalanta due volte non ci può essere, quindi, per avere, un qualcosa di decente, mettiamo, che so, Genova-Fiorentina, e quindi è passata, supponiamo la fiorentina, ok, con i vari risultati, qua possiamo mettere, che so, 3 a 0, fiorentina 2 a 1, e la finale, CTRL-C, sarà, CTRL-V, sarà questa, quindi qua mettiamo, ad esempio, una discicelle, e invece di semifinali, mettiamo, finale. Il risultato è questo prospetto, con dimensioni, appunto, variabili o altro, si può fare un tabellone più complesso, e quant'altro. Però, direi che abbiamo imparato, a gestire un attimo le immagini, creare dei piccoli, prospetti, ma vi ripeto, se voi immaginate un prodotto, con questo, il dettaglio del prodotto, con tutte le informazioni, e si associate, oppure un'anagrafica, o qualsiasi altra cosa, con questo modo, si riescono a gestire facilmente, le immagini. Ok, per questo video è tutto, alla prossima, ciao ciao! Ciao!